Atalanta-Liverpool termina 0-1, l'Atalanta perde contro il Liverpool oggi, 18 aprile 2021, partita di Europa League. L'Atalanta non fa gol, Liverpool ne fa 1-1, basta quest'unico gol a portare la vittoria del Liverpool. Lo fa il buon Mohamed Salah, nel primo tempo si tratta di un gol su rigore. Le statistiche sono pazzesche per il Liverpool, abbiamo un sacco di possesso di palla, una marea di passaggi, una precisione dei passaggi un bel po' più elevata rispetto alle statistiche dell'Atalanta. Insomma, veramente, c'è da riconoscere la bravura messa in campo dal Liverpool rispetto all'Atalanta, che però prende questo colpo basso. Va bene? Ben indirizzato lei. Iscrivetevi al canale Narratore Italiano, commentate una buona sera da voi e al prossimo video.